Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video dove parleremo di un evento che ha scosso il mondo social coinvolgendo Edoardo Dona Maria e la sua interazione con quelli del van. E vedremo la reazione di Antonella Fiordelisi, ex fidanzata di Edoardo e parte integrante di questo intricato scenario. Come molti di voi sapranno, Edoardo Dona Maria, noto speaker radiofonico e ex partner di Antonella Fiordelisi, ha destato scalpore sulla rete con un semplice like su un video che coinvolge il gruppo del van, composto da Edoardo Tavassi, Micolin Corvaia, Oriana Marzoli, Gael Eddonà e Nicole Murgia. Tutti i personaggi che in qualche modo sono stati legati alla sua ex fidanzata. Questa azione ha scatenato una vera e propria tempesta di critiche da parte dei fan di Antonella, il cosiddetto fan di Dona Lisi. Edoardo, di fronte all'ondata di insulti, ha deciso di rispondere spiegando il suo gesto. Ha affermato di aver messo like al video in cui venivano spese parole positive su di lui senza alcuna intenzione di creare dispetti o provocazione. Tuttavia, questa reazione non ha placato le critiche e l'attenzione si è poi spostata su Antonella che finora non ha emesso alcun commento in merito. La sua posizione sembra essere di distacco e di desiderio di evitare ulteriori polemiche o odio nei confronti di Edoardo. Questa vicenda si fa sempre più intricata. Restate con noi per scoprire tutti i dettagli e le possibili implicazioni di questa diatriba e non solo. Iscrivetevi al canale e lasciateci un bel like se vi fa piacere. Grazie e a presto! Grazie a tutti!